Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo episodio di Se Fossero su FIFA Siamo al, se non sbaglio, il settimo episodio, non vorrei sbagliarmi Tre giocatori, come sempre, due giocatori tra virgolette normali, come li chiamo io E la leggenda, una leggenda incredibile, vivente Quindi partiamo subito, non perdiamoci in chiacchiere Iniziamo con il lasciare un bel like potentissimo Vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace E soprattutto un commentino, consigliandomi sempre giocatori da inserire nel prossimo video Che siano giocatori, ripeto, normali e anche le leggende Continuate a consigliarmene e prima o poi le faremo tutte, si spera Quindi partiamo dai giocatori di oggi Il primo giocatore è uno che gioca in Serie A Stiamo parlando di The Frel, che è un giocatore che quest'anno sta giocando comunque una buona stagione Adesso mi sembra che è fuori per infortunio Del Cesena, 29 partite tra Serie A e due partite di Coppa Italia 6 gol e 4 assist, direi che comunque come stagione in Serie A Direi che è abbastanza buono E questa è la sua carta, la sua versione 68 L'ho messo da AS, in realtà lui può ricoprire più ruoli in fase offensiva Questa è la sua carta con, diciamo, una sorta di aggiornamento che ho visto sul suo FIFA Sono delle discrete statistiche, non le migliori, però comunque sia Penso che sia anche un buon giocatore nella carriera perché forse ha un buon valore di crescita Questo non lo so, comunque se potete confermarmi mi fate un piacere Comunque vedremo nei prossimi anni come questo giocatore starà su FIFA Perché secondo me potrebbe avere molta più velocità, un dribbling forse anche migliore E magari anche 4 stelle abilità perché 3 forse non rendono giustizia Però io non conoscendo benissimo il giocatore non posso dirlo con certezza Se ovviamente c'è qualche tifoso del Cesena o qualche giocatore che lo conosce molto bene Scriva nei commenti quale per lui potrebbe essere la sua carta di quest'anno e come lo vedrà per il futuro Poi andiamo con un nuovo giocatore, un altro giocatore che fino all'anno scorso era su FIFA Però quest'anno, tolto il campionato brasiliano, non c'è più Cioè Alexander Pato, altro giocatore che tantissimi di voi mi hanno chiesto di fare Come potete vedere da questa carta è molto simile, anzi direi identica Alla carta che l'anno scorso era stata rilasciata riguardo alla FIFA World Cup Quindi ai mondiali Perché secondo me rende giustizia Io l'ho visto un po' giocare quest'anno, non è che abbia fatto tantissime partite Però comunque la sua stagione non è iniziata malissimo Lui ha fatto 8 partite, 4 di Libertadores, 4 di Coppa Sudamericana, 4 gol e un assist Quindi va abbastanza bene, cioè ci sta abbastanza bene Pato, io sono convinto che se fosse stato su FIFA quest'anno Sarebbe veramente un ottimo attaccante Perché secondo me un giocatore con queste statistiche è veramente fortissimo Velocità, dribbling, ottimo tiro, ottimo fisico E 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole Secondo me avrebbero fatto veramente molta paura E sicuro lo avrei trattato molte volte sul mio canale Senza alcun dubbio Purtroppo Pato lo conosciamo Ha avuto diversissimi problemi quando era nel Milan Soprattutto muscolari che l'hanno un po' danneggiato nel corso degli anni Io sono convinto che questo sarebbe diventato uno dei migliori giocatori al mondo Perché aveva tutte le carte per diventarlo Purtroppo è andata così Un po' rimpiango ciò perché era uno dei miei giocatori preferiti Ed era veramente fortissimo Purtroppo negli anni è sempre peggiorato Comunque, ottima carta, senza ombra di dubbio Siamo tutti d'accordo su questo Andiamo a parlare della leggenda Una leggenda vivente, una leggenda italiana Che molti di voi mi hanno chiesto Cioè Roby Baggio Mi scuso un po' per questa immagine che faceva un po' schifo Però ho trovato solamente questa su Google Non riuscivo a trovare delle foto in buona qualità della sua faccia Comunque questa è la sua carta che ho ipotizzato Io purtroppo l'ho visto giocare poco Baggio Però da quello che ho visto e per sentito dire Questo è stato, e ovviamente anche dai video che ho visto Chiaramente, grandissimo giocatore Uno dei migliori giocatori al mondo È stato uno dei migliori giocatori al mondo Che ha vinto anche un pallone d'oro Quindi tanta roba Queste sono le sue statistiche È un giocatore molto veloce Con un dribbling allucinante Soprattutto vede la porta in maniera incredibile Quindi il 92 di tiro minimo Mi sembra corretto Gli ho dato un 89 di overall Che secondo me ci può stare Forse potrebbe meritarsi anche qualcosa in più Adesso non lo so Comunque vediamo un attimo i dati nella sua carriera Perché ha fatto veramente un casino di gol 223 gol in 489 partite Quindi più o meno la metà di gol Tantissimo Comunque lui ha una seconda punta Quindi ha una media veramente alta Mi sorprende questi 10 assist che ha fatto In tutta la sua carriera Che mi sembrano pochi a dire la verità Per le sue caratteristiche È un giocatore dotato di un buon passaggio Quindi mi sorprende un po' Che abbia fatto così pochi assist Però vabbè comunque sia Nulla cancella a questo giocatore Una carriera meravigliosa Un giocatore che ha giocato per un sacco di squadre E non è mai stato criticato per ciò Per questo E quindi tanta roba per Baggio Ripeto grandissimo giocatore Uno dei migliori Quindi raga Il video io terminerei qui Come sempre Vi invito a lasciare un bel mi piace Per Super Baggio Ma anche per Defrel e Pato Che se lo meritano Vediamo se riusciamo ad arrivare a 400 mi piace Vi invito come sempre Come avevo detto prima A scrivermi nei commenti Dei giocatori Da trattare ovviamente Nei prossimi episodi Stavo pensando appunto A Puskas dell'Inter E altri giocatori Comunque scrivetelo nei commenti Vi invito a iscrivervi al mio canale Pagina Facebook Twitter Instagram Tutti i link come sempre Lì trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga